Poi c'è l'idea che cade a quattro tespati! Eh ma ti dà il cazzo! E' una vecchie tra panizia migrana se siamo tornati con un nuovo episodio di GTA Olè! Con C Olè! Dopo la gang malata dell'altra volta Olè! E dopo la partita... Dopo aver truccato una cazzo di macchina Averla fatta diventare tutta rosa Aver fatto un macello della madonna E aver visto i poliziotti che infrociano tra loro Oggi facciamo una gara Che le gare sono le cose che ci rialzate più fa su GTA Sì, che cazzo da fanno! S'vototodo se tipo quella da ti zoompi BAND PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM?! Allora.. No! 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 Sì! NO! aide no crediamo che la porsche la porsche che credo colore gt la porsche ha un giro cosa è successo? ci tocca a fare la gara con questa scaldò il tempo bianca bella merda tutto bianco mamma mia guarda che coatto si sente i cani da macchina lui proprio con sta merda devo fare stelle ah no carino se accelera il mio avvio un'ora troppo le tasse macchina 5 secondi in scia incredibile quello vola dalla parte opposta oddio oddio ooooh ho capito avanza e non mi ha fatto stare oh e l'era del cazzo i attenzione attenzione che forse e nono se riuscì da chiara la macchina infezione attenzione attenzione ottavo incredibile 8 su 10 fantastico proprio fantasticato ma fa un giorno di luogo bella caracosie a me è più difficile questo mi voglio come se pare tra m disfasciare la macchina su queste gala disfasciare mamma che stiamo tutti un po' dai 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 risultati guarda la merda guarda di oh 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 oddio so quattro oh oh portaci tu oh oh oddio ah te guarda questo costo portaci questo stronzo guarda il senso quarto terzo guardati mamma non lo rendi così non lo so ciao ciao vabbè ribiamo ribiamo ecco quarto subito no guardo credi guarda rimbi terzo non lo so ti faccio una stacola soggettiva non gira sta macchina oddio che cazzo è la jumpers grazie semmo non gira manca cedera tu dico ah qua mi sa che devi fa un zumpo sai no non è vero orco cani non gira porca buttana ahia questa è brutta questa è brutta questa è brutta ma via me lo male che st eeeh no grazie ma se buce di auguro che c'è grande mago che è vero ah 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 questo è brutto no ma perché c'è altra botta altra botta vabbè dai saluti qua posso rientra terzo poco poco sto spavolato levati grande vai grande mamma mia magico no no vabbè ma non c'è la pasta macchina dai ma fa fatte la nuova cazzo di frega come la riprende ragazzi adesso gara combattuta rogo mamma mia ecco la cosa è arrivato è bello c'è ma come ma con ma con graffi vabbè 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 c'è stai vantato vittere c'è 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 entrata l'ultimo no devi sfasciare la macchina per entrare con la cosa a penso che merda mamma mia quanto mamma mia tu mori ti ha fatto la scodata infamone guarda guarda devi dire che fa quello ma è l'obiettivo su e si vede non ti fai un cazzo dalla gara devi a lui porca tronco non mi ha più e lei non è vero ma vedi che c'è sta incidente e continui che cazzo non lo ridi meno che non fa un un chioppone di radio di marchio un po' c'è spedito ma è di nuovo poco 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 o bobo o bobo o bobo non è vero non è vero oddio che buce di culo ah no fan culo tra lezioni legate a quattro spazi per la cazzo guai a dire come la te ascolta conto contando due giri ma che sei matto guarda questa che deve girare o dove agire adesso non poteva aspettare c'è oddio vai 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 dai che ce la puoi fare puoi rubare adesso dai ce la puoi fare tranquillo eccolo è arrivato ahahah che cazzo vuoi ma superami e basta no vabbè si può rientrare all'ultimo coso dai che ha infracciato quello eh ma come questo non gira non gira dai che ha infracciato sei ottavo calcola vedi che c'è rientrato quello dell'ultimo checkpoint eh perchè ha distrutto la macchina vai dritto che cazzo te ne vedi tanto non gira ci va da sola dritto oh pezzi che si sono rientrissi oppure ma posso farla macchina il momento il tempo ma il po' è sicuro guarda mezza strada con l'arri abbiamo voluto provare come era manda con la macchina sfasciata muro se vuol dire caso perché quando abbiamo i autori ok tutti ieri mamma mia guardano pavolo sta guardando guardalo mamma mia guardano anche proprio è tutta un'altra cosa che la macchina nuova eh è boooom non si è fatto un cazzo non si è fatto niente si è andato a due e levati a due viotto contro un pick up e non si è fatto un cazzo concluso in cui è in tua posizione fuori tempo massimo il pillo non arrivato proprio complimenti c'è già la seconda volta che fai un non arrivato in tutta la tua carriera di però è stata una gara emozionante emozionante e incazzosa quindi se volete vedere la prossima gara che magari guida lui lasciate tipo duemila like sotto e noi ci becchiamo al prossimo video bella ciao